Andare a creare quella che è la corretta geometria del corpo, che è quella che poi ci consente di sviluppare vera forza, forza elastica, elasticità, un lavoro che si basa soprattutto non sulla forza fisica ma sulla morbidezza, che è un concetto un po' strano, ma diciamo avvicinandosi alla nostra arte marziale bisogna anche capire che si deve abbandonare il concetto di forza intesa come forza muscolare, che è un tipo di forza che è destinato a svanire col tempo, con l'età, mentre la forza deriva dalla corretta struttura, dal corretto studio delle connessioni del nostro corpo, sistema fasciale, sistema connettivo, che allineate una con l'altra ogni fibra del corpo, praticamente deve arruolare la fibra immediatamente successiva e creare una catena che porta a sviluppare una forza che prende la propria base da terra e automaticamente poi si trasmetta tutto il corpo e quindi poi nella tecnica si esprime. E quello che mi viene da pensare adesso che hai fatto anche questo escursus mi viene quasi anatomico e medico è anche il fatto che quindi c'è anche un benessere tra l'altro per il nostro corpo. Assolutamente sì, c'è un benessere e soprattutto una consapevolezza anche di quello che andiamo a fare, di come utilizzare il nostro corpo nella maniera più sana, più morbida, più fluida e anche meno dannosa, perché facciamo anche un ragionamento banalissimo, se la nostra è una disciplina che si basa sulla difesa personale e noi usiamo il corpo in maniera sbagliata facendogli per primi noi del male, usandolo appunto in una maniera scorretta, è inutile, cioè siamo in primi nemici di noi stessi. Invece il nostro lavoro si deve basare sulla morbidezza, sul rilassamento, sul giusto utilizzo del corpo. Ognuno, un'altra caratteristica della nostra disciplina è che in base alle proprie capacità fisiche fa quello che più gli si confà, diciamo, si va a sviluppare quelle che sono le caratteristiche che più sono adatte alla sua struttura, al suo fisico e quindi è una disciplina che come dico sempre è come un vestito che uno si deve puscire addosso o su misura. Grazie a tutti.